La cooperativa Coenay inaugura la sua nuova sede in Viale Duccio di Boninsegna a D'Arezzo, una realtà la vostra che si conferma in crescita? Sì, in realtà la nostra cooperativa si conferma in crescita come altre realtà, in particolar modo le cooperative che investono nel lavoro e che non rinunciano a assicurare la garanzia dei diritti delle persone e a investire nelle risorse umane. Coenay ha realizzato con questa che è la sede un pezzo importante di un piano degli investimenti che abbiamo varato in questi anni nel piano della crisi grazie alla capacità di immaginare il futuro, progettare iniziative nuove. Quindi una realtà la vostra che riesce a creare lavoro radicata profondamente sul territorio? Sì, la cooperativa esiste per questo, esiste per creare lavoro e per dar servizio alle persone che ne abbisognano. Questo facciamo in collaborazione con la ASL, con grande parte degli enti locali del territorio in modo molto positivo nonostante le difficoltà. In questi anni, proprio leggendo le difficoltà attraverso l'innovazione e la ricerca, abbiamo costruito servizi nuovi e attraverso questi servizi e l'investimento sul capitale umano alle persone, generato appunto lavoro.